Ciao amiche, ciao amici, ottieni ciò che vuoi utilizzando le attitudini, la motivazione, la fiducia e il contesto. Queste quattro leve ti permettono letteralmente di raggiungere qualunque obiettivo. Vediamo un attimino, che cosa sono le attitudini? L'attitudine è la capacità a fare una certa cosa. Però la cosa interessante è che una volta che hai scoperto qual'attitudine serve per raggiungere un certo obiettivo, entro certi limiti anche tu puoi acquisire quell'attitudine. Il presupposto della PNL, della programmazione neurolinguistica è proprio che qualunque cosa un essere umano è capace di fare, entro certi limiti, se io devo superare e battere il record dei 100 metri avrò un po' di difficoltà, però entro certi limiti, diciamo così, se riesco a capire quali sono le strategie che le persone di successo in quell'area utilizzano, posso ricalcarle, vuol dire ricopiarle, fare un po' come i giapponesi che hanno fatto venendo in Europa all'inizio, che copiavano ad esempio le nostre autovetture e poi le hanno fatte meglio. Quindi, e come possiamo fare questo? Ogni persona, diciamo, presenta un certo modello, un certo modello che è un modello sensoriale con delle modalità, delle strategie, modalità visive, uditive, cinestesiche, delle sottomodalità. La cosa fondamentale è che devo avere un modello, un modello di riferimento e poi letteralmente copiare per acquisire le sue capacità, le sue attitudini. Posso anche chiedere a questa persona come ha fatto, se ho possibilità di interagire, di parlare, quali capacità ha sviluppato e letteralmente devo prendere a modello che è riuscito in quelle imprese, in quella situazione. Altrimenti se non c'è nessuno di riferimento, cercherò io di capire quali sono le attitudini che servono e svilupparle. La motivazione che cos'è? È l'energia che mi permette di fare tutto questo, perché se non ho energia, se non ho motivazione, motivo all'azione, la motivazione è il motivo all'azione, non mi sveglia neanche al mattino. Molte persone si svegliano al mattino con l'unica motivazione di fare la pipì e questo è quello che porta, diciamo, all'abbruttimento dell'essere umano, perché la motivazione è un po' l'energia per raggiungere il nostro sogno. Quindi dobbiamo coltivare la motivazione, trovare motivazioni dentro noi stesse. E la fiducia è, come dire, è l'attesa positiva, il fatto che noi crediamo di poter riuscire, ma con distacco dal risultato. Cioè se io credo, perché se per prima non credo di poter ottenere una certa cosa, sicuramente non la otterrò per una profezia che si autovererà, per cui è veramente importante avere fiducia in quello che facciamo. E deve esserci, quindi, grazie alla motivazione, uno sforzo costante, perché se voglio raggiungere un obiettivo devo avere fiducia e la fiducia mi porta ad avere uno sforzo costante in quella direzione. E inevitabilmente arriverò lì. E poi c'è il contesto, che il contesto non è da sottovalutare, perché ci sono dei contesti che facilitano enormemente l'accadimento degli eventi. E il vero mago dell'ipnose, ad esempio, è uno che sa, il mago della comunicazione, creare i contesti giusti. Ad esempio, nel contesto di Lourdes è molto più probabile che avvenga una guerrigione. Non tanto per, poi io questo non lo so, per gli effetti, diciamo, della Madonna di Lourdes, ma per gli effetti che siamo in un contesto in cui tutte le persone hanno una profonda fede e fiducia nella guerrigione e tutte le energie di tutte le persone sono direzionate in quella direzione. Quindi anche le mie forme pensiero, diciamo così, tenderanno a direzionarsi nella direzione del contesto della guerrigione, perché il contesto è quello della guerrigione. Quindi l'abilità di creare i contesti giusti è anche nella seduzione, vale questo. Se una donna, diciamo così, la porti in un contesto giusto, la cena giusta, il ristorante giusto, il bicchiere di vino giusto, è molto più facile che ci sia poi un proseguimento nel dopocena. In caso contrario diventa molto più difficile, quindi i contesti sono molto facilitatori dell'accadimento degli eventi. Quindi devi imparare a utilizzare queste quattro leve che ti permetteranno letteralmente di raggiungere qualunque obiettivo. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda nei post e ricevere un video di risposta. In più, se questo video ti è piaciuto, condividilo con tutti i tuoi amici. Ciao!